Luca Leonello, ti vediamo in questi giorni in Curon, una serie molto particolare appena prodata su Netflix, una serie Netflix, dove tu sei tra i protagonisti, interpreti Thomas, che definirei un uomo di poche parole, che vive in un albergo che è il suo e che tiene in gabbia un lupo che cerca di addomesticare e secondo me questo non è casuale, quindi raccontaci chi è questo Thomas. Ma intanto dobbiamo dire che l'albergo è completamente disabitato, ha ormai vent'anni, io sembra che ne sia l'unico occupante inquilino, ma tu dicevi il lupo. Poi si scoprirà nella storia che c'è anche un lupo a chiotto che recita con noi. Poi la cosa che mi ha affascinato, perché gli alberghi sono tutti sempre molto belli, è proprio il concetto di albergo che mi affascina. Poi noi facciamo parte del carrozzone, del circo, dello spettacolo e viviamo negli alberghi, quindi fin là niente di nuovo, tranne che io adoro vivere negli alberghi, ma anche se sono disabitati, perché contengono molte vite. C'è passato chiunque, chiunque continuerà a passarci ancora e questa stasi di assenza di clienti, che viene raccontata nel film, è molto simbolica. Certo, anche perché è una serie, dicevamo, molto particolare, senza ovviamente spoilerare o svelare tutto il significato e il procedere della storia, sappiamo che comunque è una serie che si basa sul doppio, quindi sulla teoria che ognuno di noi ha un, chiamiamola ombra, lato oscuro, qualcosa che è nascosto e che noi cerchiamo di tenere a bada, apposta parlavo del lupo, dicevo del lupo in gabbia. Tu sei Thomas, sei quello della storia che sa tutto, perché sei il padre della protagonista, Anna, che hai mandato via a un certo punto, perché a volte non si capiscono alcune decisioni che i genitori prendono per i figli e invece magari è per il loro bene. Volevo sapere da te questa cosa del doppio e soprattutto sapere se tu hai avuto a che fare con la tua ombra, in qualche modo, se l'hai incontrata. Ma con l'ombra noi europei abbiamo a che fare spesso. Se vivi all'equatore non ce l'hai, non ci sono ombre, tutto cade a perpendicolo. al di là di questa relativa sciocchezza. Può anche essere una metafora, eh? Sì. Volendo. Al di là, dicevi? Sì. Le ombre, io preferirei identificarle come lato scuro. Lato scuro, certo. Come l'angolo buio, perché poi in realtà siamo noi che proiettiamo l'ombra. L'ombra ci appartiene, al di là di Peter Pan. Certo. L'ombra è nostra. E guai a chi ce la tocca. Sì. Senti, che in questa atmosfera, diciamo, di Curon, secondo me tu ci sei, ti sei trovato proprio a tuo agio, perché tu ami, secondo me, un po' queste atmosfere, giusto? Anche i film che fai, i personaggi che ti scegli, molti sono cattivi, anche se Thomas non lo è. Possiamo dirlo questo? Ma il cinema è fatto dai cattivi. I ruoli dei buoni sono sempre meno affascinanti, sempre molto prevedibili. E allora il divertimento sta nel fare le capriole dentro, chiamiamolo così, tra virgolette, il cattivo. Potrei fare delle altre metafore, però... Vai, tranquillo. Ma no, quelle sciocchezze, bianco e nero, lo esco della medaglia. Siamo tutti un po' buoni e tutti un po' figli di puttana. Bravo, esattamente così. Quindi, appunto, dicevo, in queste atmosfere tutti ci ritrovi, anche perché... Tu sei... Tu hai detto che mi ci ritrovo. Esatto, ma tu non mi hai contraddetto, quindi chi taccia consente. No, dimmi di sì, dimmi... cioè, dimmi no, dimmi di sì, dimmi che cosa vuoi dire, ti ci ritrovo. Allora, la montagna è il luogo più bello del mondo, forse anche più del mare. E avere il privilegio di viverla così a lungo, vedere tutte le stagioni che si susseguono, che si rincorrono, magari anche quattro volte in un giorno, per tanti mesi. E' una cosa, insomma, che ti rimane dentro, perché noi normalmente, che abitiamo le pianure, le valli, ci facciamo la settimana bianca, se tutto va bene, in montagna. Invece viverla per tanti mesi crea dipendenza, dovrebbe essere illegale. Eh sì, come il mal d'Africa. Che poi ti viene, no? Se vai in Africa. A me è accaduto. Sì, solo che lì c'è lo zanzarone che ti dà la malaria, lì invece magari c'è il cerco, il lupo, che te se magna. Certo. Senti, mi dici in due parole che cosa ti ha affascinato di Curon, e sempre in due parole, perché poi siamo andati per un'altra strada, chi è, insomma, Thomas? Com'è questo signore? Curon è un luogo non luogo. In realtà Curon non esiste. Curon è rappresentato da questo campanile solitario. che senza senso si ostina a non sprofondare nell'acqua. Poi hanno costruito, ma intorno... Hanno tirato un po'. Il campanile che si affaccia su questo campanile è chiaramente un paese. Certo. Ma che non è e non sarà mai quello che sta sotto l'acqua. che è stato superato. Da lì il fascino di questo luogo che ti prende proprio anche alle spalle, anche quando tu non guardi il campanile, lo avverti, anche se stai passeggiando altrove. Poi Thomas, dicevi, il personaggio mio, il personaggio mio vive degli altri personaggi. Al di là delle stanze vuote del mio albergo, che poi si capirà chi invece qualcuna è piena e come. E' un uomo che ne ha viste di tutti i colori, che ne ha passate di tutti i colori e quindi il colore della paura non lo spaventa affatto, lo preoccupa e quindi la affronta. A volte nel modo sbagliato, ma si fida del suo istinto. Come il lupo. E qua, chiudo. Ciao spettacolo Mania, un grande saluto a tutti quanti maniaci dello spettacolo. Vi adoro. Ciao Luca.